Musica Musica Zaitpida bolchente avtiinbar erde, a spiare di Giardar, azzi simons buon seconde bint monat novembre alla visse, è che la Cine ha la scuola di Peste Geloav di Trentino e scuola per le sportive sportive. È raccontato da una federazione di amatori sport popolari. La Cine ha scritto che la edizione del 26. edizione ha la scuola di Peste Geloav di Trentino. La Commission ha parlato di alcuni tipi di Pesce Geloav di Trentino, la scimma di Stagge e la natura umano e l'organizzazione di tutto il gelovo. La Commissione e le persone che hanno lavorato con la federazione, che hanno lavorato lungo, che in altre parole non hanno lavorato meno meno da 100 km e non hanno meno meno da 10 km. Il nostro Zimbarlovo è rappresentato, che hanno lavorato con la federazione che hanno lavorato con il Trentino 2000. Prima è il centro di Kent, che è un punto di più di scarponata Trentino, che ha lavorato con il Vila Zò. Il terzo è il centro di Kent Oggett, con la marcia dell'Uva, con la verla di Giobo. Il terzo lato di Trentino, che ha lavorato, è il Tarcisio Pedrini, con il giro di 22 anni. e il terzo lato di Trentino è stato Paolo Morelli, che ha lavorato con tutte le competizioni, anche in questa federazione. A 10, il terzo lato, il nostro Bürgermeister Luca Nicolucci Paolazzo. Il terzo lato è stato lavorato con la federazione, tutti i giorni che hanno organizzato la Marche in Cimbra, e in questo caso è stato un candidato per la terza marcia di Trentino, per la terza marcia di Trentino. Per il terzo lato è il terzo lato, e questo è stato un'ottima soddisfazione e questo è stato un'ottima cosa. che è stato un'ottima cosa. Allora io andrò, io andrò Roberto, Luigi, io andrò Ferdi, e Giuliano, io andrò Roberto. Io ho ricevuto questo Geschenco, questo riconoscimento, e ho trovato da qui. Questo è un'ottima cosa per tutti, e allora io voglio ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno fatto una volta che ci hanno fatto un po' di scuola e un po' di tempo e un po' di volontà ma per fare un po' di scuola e 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 un po' di scuola in 2009, avevo un po' di scuola e un po' di scuola che non sono l'obietta, ma anche per le loro ma anche per il corpo, per l'evento, per l'evento, per l'evento e per l'enthusiasmo è sicuramente più difficile. La fatica che abbiamo fatto è organizzato, per qualsiasi salle, organizzato per non. Per il mondo non è qualcosa, ma per il mondo, ma per il mondo, ma per la capacità, le forze e le ricorche per la stazione. E allora la cosa si chiama l'evento, devo dire che le fanno bene. Alla cosa si chiama l'evento è il salle del mondo, perché è ancora nella stazione che Lookerebbe le volte, che Gesù siti volendo, volendo, la vrou, Luzerno fino a mai, in l'essere del mondo. Il progetto nel suo complesso riguarda otto comuni, tra cui per i comuni trentini il Luzerna, Lavorone, Folgaria e Livico Terme, mentre per i comuni veneti del Vicentino il comune di Roana, Rosso, Asiago e Gallio. I lavori del primo lotto sono iniziati nel giugno del 2015, sono iniziati nella parte veneta di Roana. I lavori attualmente sono arrivati fino alle zone di confine, fino alla zona di Malga-Costesin. Nella parte veneta il tratto è stato già consegnato e collaudato, quindi è a disposizione dei comuni per l'utilizzo ordinario della strada. Sull'Userna è stata completata la fase di bonifica bellica, è stato eseguito il collaudo dal quinto reparto infrastrutture del Ministero della Difesa. In primavera si prevede di spostare completamente i lavori sulla parte trentina e in particolar modo per andare a intervenire sul lavoro un po' più impegnativo, che è proprio la realizzazione del tratto di 600 metri di percorso ciclopedonale in fianco alla provinciale, qua da strada delle Frettele fino all'incrocio con via Roma. Si prevede lo spostamento verso monte della sede della provinciale per poter realizzare il percorso a valle. In uscita dalla strada delle Frettele prevede la realizzazione del sedime della ciclabile leggermente abbassato rispetto alla quota del piano stradale della provinciale. Nel tratto fino all'area di sosta, qua dove c'è la Madonnina, è previsto che il percorso sia distante circa un metro e mezzo dal ciglio della provinciale per la presenza del garele e quindi per la larghezza di funzionamento della barriera stradale. In questo tratto qua si prevede di percorrere la vecchia viabilità, che è ancora esistente, ripavimentandola e logicamente verrà asfaltato anche questo tratto e poi nel tratto verso il paese, essendo all'interno del centro abitato, infatti il cartello del centro abitato verrà spostato in corrispondenza dell'area di sosta qua, verrà realizzato in fianco strada, proprio in aderenza, con un marciapiede vero e proprio. Per realizzare il percorso in questo tratto si è reggono necessario traslare a monte la sede della provinciale e quindi verrà anche leggermente rettificata, proprio per renderla leggermente più rettilinea e in corrispondenza della croce lì all'inizio del centro abitato, la croce verrà spostata circa leggermente verso monte, proprio per permettere il passaggio in prossimità del cancello dell'abitazione qua all'inizio del paese per poter realizzare il marciapiede che sarà largo, due metri e mezzo in questo tratto. In corrispondenza dell'accesso di via Roma verrà realizzato il collegamento, sempre esterno alla provinciale e poi da lì si percorrerà via Roma fino alla piazza del paese. E anche lì si dovrà riorganizzare la viabilità di via Roma in maniera tale che le bici possano percorrerlo senza dover andare in contromano. Il secondo lotto per la parte trentina prevede il collegamento dall'abitato di Luserna scendendo verso le Tezze e imboccare la strada tagliafuoco che procede verso i masetti. E da lì in particolare arrivare a Malga Laghetto e poi procedere verso Lavarone e Folgaria. Il tracciato all'esterno del centro abitato prevede la percorrenza della strada delle Frettele per poi salire lungo la strada forestale che arriva fino al piazzale del Legname in corrispondenza della provinciale. In questo tratto per scendere sulla strada che porta a Malga Mille Grobe viene fatto un tratto di nuova realizzazione dove è stato fatto un taglio delle piante e prevede proprio il collegamento attraversando la provinciale, il piazzale del Legname con la strada che da Malga Mille Grobe di sotto porta verso Malga Mille Grobe di sopra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.